10 e 22 in questo momento, in questo martedì 14 dicembre, siamo sempre in diretta da Cassino per seguire la presentazione della webserie Viaggio nel Gusto che starà in distribuzione sui canali social del Gambero Rosso, iniziativa che è stata realizzata e voluta fortemente dal Parco dei Monti Arunci ma anche dal COSILAM che per chi non lo sapesse è il Consorzio Industriale del Lazio Meridionale, un ente che dobbiamo dire che è stato tra l'altro anche sciolto, cioè si è unito in questi giorni a tutti i consorsi industriali delle province della Regione Lazio per fondare un unico consorzio. Attualmente però il COSILAM continua nelle sue attività e ne voglio parlare brevemente con una collaboratrice del COSILAM, l'ingegnere ingegnera, se posso dire del COSILAM, Simona Sarra. Buongiorno Simona. Buongiorno, buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti. È un piacere che tu sia ai nostri microfoni anche perché dovete sapere, qui siamo proprio un derodo oggi perché considerate che nell'Università di Cassino abbiamo accanto a noi un docente che sta facendo lezioni su social, su comunicazione, poi da un'altra parte la conferenza stampa, noi in diretta radio, quindi è tutto. Siamo sul pezzo. Allora, volevo dire il COSILAM, cosa fa il COSILAM? Perché un consorzio industriale, certe volte uno dice ma qual è il significato di questo ente e tu di cosa ti occupi? Sì, allora il COSILAM è un consorzio industriale, un ente pubblico economico che è a servizio delle imprese, quindi si occupa di tutta la parte dell'industrializzazione, i servizi, la parte di depurazione, ma anche i servizi ci vuole di connessione, quindi di rete wireless, di mettere in rete tutte quelle città o quei luoghi dove difficilmente riescono insomma a connettersi con le rete locali. Quindi ci piace proprio fare rete, rete di impresa e mettere a sistema più industrie che fanno parte dei comuni afferenti al COSILAM. Va detto che il COSILAM faccio difficoltà a trovare persone con cui parlare, spesso con questi enti, quello che mi capita è che, ne parlavo poco fa proprio con il direttore Francesco De Angelis, diceva questo, a noi piace fare, agire, però abbiamo difficoltà a comunicare. È vero anche il contrario, condividi con me, cioè che se te non lo racconti, non lo dici, non lo fai conoscere, effettivamente può ingenerarsi. Non arriviamo. Ma anche perché uno pensa sempre che alcuni enti e forse i consorsi industriali su questo possono avere questo risvolto, dice ma che servono? E se non lo racconti nessuno lo sa. Ah Simona però voglio fare un'altra domanda, lei lo sa perché ovviamente... Pua, pua, pua. Qua, 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 ecco, non ho tante domande facili insomma in questa mattinata. Siamo sempre in diretta da Cassino, ecco in questa bellissima università, Università di Cassino, perché ovviamente tutti voi poi avete una vostra vita, grazie a Dio se posso dire, ecco, e tu in particolare nella tua comunità ti occupi anche di Azione Cattolica. Noi siamo una radio molto legata all'Azione Cattolica di Gaeta e anche un po' regionale, però raccontaci un po' tu, che cosa ti dà questa esperienza e effettivamente che cos'è? Azione Cattolica e in che cosa fai? Quanto ci piace l'Azione Cattolica. Ecco, bene. Allora, partendo che noi siamo una maxi mega diocesi di Sora, Cassino, Quino, Ponte Corvo e l'Azione Cattolica è molto viva sul territorio e io nella parrocchia di San Giovanni, nella specificità della pastorale familiare, quindi quelle famiglie, l'Azione Cattolica mi ha dato tanto in questi anni perché è proprio uno stile di vita che mi ha accompagnato da quando ero bambina, avevo sei anni e adesso a dare testimonianza attiva ai miei figli che loro per primo, hanno due, cinque anni, vivono questa testimonianza della CR, quindi la bellezza, il sorriso, questa gioia di fare comunità insieme. Quindi è proprio uno stile di vita gioioso e contagioso. In questo tempo in cui il contagio è una cosa assolutamente negativa, questo stile di vita del Vangelo contagioso ci piace perché arriva all'altro, ecco.